Ciao miei bimbi bellissimi! Oggi facciamo insieme un esperimento. Per farlo occorre un poco di latte. Potete usare quello intero o parzialmente scremato e lo versate in un piatto in una ciotola. Versiamo il latte, fatevi aiutare anche da mamma. Poi ci servirà un po' di colore o colorante alimentare o colore a tempera. Io ad esempio avevo il colore a tempera e l'ho diluito con un poco di acqua. Mettiamo qualche goccia di colore nella nostra ciotola. Mettiamo un po' qui, un po' qui, potete anche usare tanti colori. Perfetto! Mettiamolo un altro po'. Dopo ci servirà un coton fioc imbevuto in un po' di sapone e lo metteremo sul nostro colore e accadrà una magia. Siete pronti? Guardate un po'. Wow! I colori cominciano a ballare! Si creano tanti vortici colorati. Allora, adesso tocca a voi fare il vostro esperimento. Un bacione! Ciao! Ciao!